Un principio di incendio ha interessato nella mattinata di mercoledì 21 febbraio il tetto di un'abitazione situata in sala vecchia per Valperga Cornier. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vrea che hanno domato e spento le fiamme prima che potessero stendersi. Sul tetto della villetta erano posizionati i pannelli fotovoltaici che si sono danneggiati e i vigili del fuoco li hanno rimossi. Sono incoste gli accertamenti per capire se le fiamme si sono sviluppate dal camino oppure dalle stesse pannelli a causa di un cortocircuito. Non sono stati registrati feriti. Grazie a tutti.